Con il recente DL172 dal 6 dicembre al 15 gennaio avremo l'applicazione di misure più restrittive in un momento in cui evidentemente l'andamento della curva non ci consente di abbassare la guardia, anzi dobbiamo ancora più essere attenti, quindi è stata predisposta come da indicazioni del Ministro dell'Interno un comitato, una pianificazione dei controlli che effettueranno ovviamente in massima parte le forze di polizia con l'ausilio delle polizie locali, ma ci aspettiamo la collaborazione di tutti a partire dai cittadini perché evidentemente come il Ministro dell'Interno ha detto i controlli dovranno essere serrati, puntuali e rigorosi, cioè rigorosi nel senso che non si ammetteranno più d'ero, che non ci sarà più tolleranza, quindi possiamo dire che sarà applicato in questo periodo il controllo con tolleranza zero, quindi le multe saranno elevate e saranno anche abbastanza sostanziose, cospicue come si parla dai 400 ai 1000 Euro, in caso di mancata presentazione del certificato verde da vaccino rinforzato.